Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirvi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Sono le 4.24 di lunedì 25 luglio 1988, quando una chiamata arriva al Buford Country Law Enforcement Center della Carolina del Nord. Il turno notturno fino a quel momento è trascorso tranquillo, tanto che la centralinista Michelle Sparrow ha potuto leggere un romanzo di Stephen King per gran parte della serata. La donna che telefona nel cuore della notte parla a bassa voce, quasi sussurra, Michelle non riesce a comprenderla completamente, ma capisce che sta richiedendo l'intervento di una pattuglia e di l'ambulanza. La centralinista chiede dunque che problema ci sia. La donna esita, afferma poi che l'intruso potrebbe essere ancora in casa. Michelle chiede come si chiami la donna, che dice sussurrando Bonnie Von Stein, io ma soprattutto mio marito abbiamo subito un attacco, lui sta morendo. Michelle quindi si mette in contatto con gli agenti in servizio, oltre ai soccorsi chiedendo loro di rispondere immediatamente al 110 di Lawson Road, nella suddivisione di Smallwood a Washington per il possibile pestaggio e accoltellamento di due persone. Per favore sbrigati, prega Bonnie Von Stein a Michelle Sparrow. Il primo ufficiale ad arrivare sulla scena, Danny Edwards, Ed Sherry e il sergente Bradford Tetherton, si avvicinano alla casa a due piani con le armi sfoderate, temendo che l'intruso menzionato da Bonnie, Von Stein, possa essere ancora in casa. La casa è buia e gli uomini la osservano con pesanti torce elettriche, notando il portico sul retro aperto con accanto una finestra rotta. Edwards e Tetherton entrano in casa attraverso la porta aperta e si trovano in cucina. C'è una luce accesa sopra il lavandino, le ante di un armadietto sono aperte e sopra di esso vi è un forno a microonde. inoltre notano una borsetta bianca posata sul piano cottura. Il contenuto di essa è tutto sparso intorno. Edwards sente immediatamente l'odore ramato del sangue e lo fa notare a Tetherton in un sussurro dicendo qualcuno qui è morto. I due controllano il piano di sotto ma non trovano niente e nessuno di insolito dunque dopo aver acceso la luce del corridoio si dirigono al piano superiore. Lì ci sono cinque porte chiuse. Decidono quindi di aprire la prima porta a destra in cima alle scale e scoprono essere la camera principale. Nell'oscurità non riescono a vedere Bonnie von Stein ma lei è lì che li chiama disperata. Passano la torcia per tutta la stanza finché Tetherton si trova di fronte allo spettacolo più orribile che avesse mai incontrato nei suoi 26 anni di servizio. La stanza è inondata di sangue è schizzato ovunque. Sul letto disteso in diagonale c'è un uomo tarchiato vestito solo con slip di cotone che un tempo erano bianchi ma ora sono macchiati di sangue. Ha ferite da taglio visibili nella parte superiore della schiena e nella zona della spalla sinistra. Inoltre ha un enorme buco nella parte posteriore della testa. Gli agenti lo capiscono subito per lui non c'è niente da fare. Bonnie von Stein di 44 anni gioce sul pavimento accanto al letto e dice a Tetherton che suo marito Liette di 42 anni stava cercando di aiutarla quindi l'intruso gli aveva attaccati entrambi con un grande bastone o una mazza da baseball e un coltello. Nel frattempo Danny Edwards va in un'altra camera da letto dopo essere stato informato che la figlia 17 anni di Bonnie Angela Pritchard è in casa. L'adolescente è addormentata nella sua camera da letto ossia nella stanza direttamente accanto a quella dove sono stati trovati i due coniugi. Indossa solo una maglietta e ha puntato addosso un grosso ventilatore quadrato in funzione. Nonostante l'umidità e il caldo estivo tipico della Carolina del Nord un bicchiere d'acqua ghiacciata con i cubetti di ghiaccio non ancora sciolti è poggiato sul suo comodino. Edwards sveglia Angela la mette al corrente della situazione che c'è in casa e le chiede di vestirsi il più rapidamente possibile cosa che la ragazza fa immediatamente. L'uomo nel frattempo lascia la stanza di Angela per controllare il resto delle stanze al piano di sopra senza trovare nessun altro. Il marito della centralinista Michelle Sparrow David era stato un tecnico sanitario di emergenza prima di diventare un agente di polizia. Quella notte è in servizio ed è lui a rispondere ai suoi colleghi per l'emergenza a Lawson Road. Servono rinforzi. Quando arriva armato del suo fucile e della sua attrezzatura medica entra in casa con Edwards e si affretta per salire al piano di sopra nella camera da letto principale trovando Bonnie Von Stein distesa sul pavimento con una camicia da notte insanguinata. Controlla anche lui i parametri vitali di Liet Von Stein concordando con Tetherton che ormai è troppo tardi per fornire alcun aiuto. Rivolge poi l'attenzione a Bonnie. La donna è stata pugnalata al petto e respira fatica. Per questa ragione le viene messa una maschera per l'ossigeno. Sebbene Bonnie stia per morire implora agli ufficiali di non far entrare Angela nella stanza e di non fare del male ai suoi numerosi gatti e al gallo domestico che vagano per la casa. I due paramedici giunti in ambulanza solo pochi istanti dopo rimangono sbalorditi dalla camera da letto di Von Stein. Infatti si aspettavano la presenza del sangue ma la camera è totalmente inondata. Arriva fino al soffitto ed è presente addirittura su ben tre pareti della stanza. I paramedici si avvicinano prima a Liet. girandolo e scoprendo che oltre alle coltellate alla schiena e all'orribile ferita alla testa che aveva subito c'è anche una grande ferita da taglio sul centro del suo petto proprio sopra il suo cuore. Inoltre entrambi i suoi occhi sono gonfi e chiusi. La sua barba ordinata è arruffata e la mano sinistra è serrata. Dalle cinque ferite sulla sua testa tre sono sulla fronte. Ci sono sei coltellate nella parte superiore della schiena vicino alla spalla sinistra e il coltello utilizzato doveva essere a lama larga. C'è solo un'unica ferita da taglio al petto all'altezza del cuore. In seguito si scoprerà che quel coltello è passato direttamente attraverso l'organo principale. Dopo aver fatto tutto il possibile per Liet iniziano a medicare Bonny che ha dei tagli alla testa e una coltellata al petto che non sembra sanguinare più ma ha perso un'enorme quantità di sangue e la sua pressione sanguigna è pericolosamente bassa. L'ospedale locale viene informato del suo arrivo poiché è gravemente ferita. Sta rapidamente perdendo conoscenza. Dopo averla applicato una medicazione sulla ferita da taglio una barella viene portata in casa per trasportare Bonny il più rapidamente possibile al pronto soccorso. Tetherton intanto sta parlando con Angela al piano di sotto. La ragazza afferma di aver dormito durante la violenza avvenuta nella stanza accanto alla sua senza nemmeno sentire le urla di Liet mentre veniva assassinato. Sembra stranamente distaccata la notizia delle violenze subite dai suoi genitori. Dice di avere un fratello di nome Chris è alla North Carolina State University e Tetherton le consiglia di chiamarlo. Il detective John Taylor è il più giovane detective del dipartimento di polizia di Washington. Ha 27 anni e arriva sulla scena del crimine dopo che Bonny von Stein viene portata fuori di casa su una barella. Sembra evidente che l'intruso fosse entrato ed uscito di casa dalla porta sul retro ma la presenza della finestra rotta vicino alla porta lo incuriosisce poiché la porta stessa ha nove lastre di vetro individuali. Individua anche uno zaino militare sbiadito e strappato che sembra fuori posto adagiato sulla veranda sul retro accanto a un guidone della spazzatura di plastica. La borsetta bianca trovata sul piano cottura in cucina è chiaramente stata svuotata dall'intruso. Inoltre altre due borse vengono trovate su un pieno di lavoro eppure ci sono troppe cose tralasciate. Computer, televisori e videoregistratori sono ancora al proprio posto. Perché i ladri non li hanno presi? Una banconota da 20 dollari è in bella vista su un comò nella camera da letto principale. Il portafoglio e l'orologio di Liet sono intatti. Le fedi nuziali di Bonny sono in una piccola ciotola mentre altri suoi gioielli sono presenti in una scatola per di più aperta. Gli investigatori giungono rapidamente alla conclusione che la rapina sia una pista parecchio improbabile. L'intruso voleva uccidere, non era interessato ai beni materiali. Al pronto soccorso del Buford Country Hospital il medico di turno scopre che Bonny ha subito tre lacerazioni irregolari sulla testa. Due vicine all'attaccatura dei capelli al centro della fronte larghe circa un pollice di lunghezza. Un'altra ferita è a forma di C e sta proprio sopra il sopracciglio destro. Il suo pollice sinistro gonfio e contuso è probabilmente rotto. Sopra il suo seno destro è visibile un livido dalle dimensioni di un pompelmo e alla destra dello sterno si nota una coltellata di due pollici. La lama era probabilmente rimbalzata sull'osso e aveva tagliato la parte toracica provocando un parziale collasso del polmone. Eppure Bonny è ancora viva. Christopher Pritchard arriva nella suddivisione di Smallwood Washington intorno alle 8 e 30 quel lunedì mattina. Lo portano in città gli agenti della North Carolina State Safety Patrol che lo avevano trovato isterico in una delle cabine telefoniche di emergenza dell'università. Dopo aver ricevuto la chiamata da Angela che lo informava che sua madre e il patrigno erano stati aggrediti aveva svegliato il suo coinquilino e fatto a pezzi la loro stanza del dormitorio alla ricerca delle chiavi della sua macchina che non era però stato in grado di trovare. Era poi uscito e vedendo la cabina telefonica di emergenza l'aveva usata per chiedere aiuto per tornare a casa. Durante le oltre due ore di viaggio di ritorno Chris si ragomentola sul sedile posteriore dell'auto di pattuglia e si addormenta svegliandosi solo quando arrivano al dipartimento di polizia di Washington. Livian informato che sua madre pur essendo in ospedale sarebbe quasi certamente sopravvissuta mentre per il suo patrigno non ci sarebbe stato più niente da fare. Angela si era dimostrata impassibile quando gli agenti le avevano informata di quanto successo ai suoi genitori mentre Chris secondo l'ufficiale che gli ha parlato ha tentato di fare la parte del figlio addolorato ma non ce l'ha fatta. Il ragazzo chiede di andare in ospedale per vedere sua madre prima di parlare con le autorità richiesta che viene accolta. Gli viene quindi permesso di sedersi e tenerle la mano in terapia intensiva. Come per qualsiasi indagine per omicidio le autorità esaminano attentamente le vittime e le loro vite col fine di cercare un movente che avrebbe potuto far del male ai coniugi von Stein. Liet von Stein nacque nel Queens New York era figlio unico di genitori di origine tedesca entrambi provenienti da famiglie benestanti. I von Stein si trasferirono a Winston-Salem nella Carolina del Nord quando Liet era un bambino e iniziarono a gestire una lavanderia che si sarebbe ampliata fino a diventare la lavanderia più celebre del paese con diverse filiali e più di 130 dipendenti. Liet dopo il diploma frequentò la School of Engineering presso la North Carolina State University a Raleigh ma venne bocciato alla fine del suo primo anno e con l'infuriare della guerra del Vietnam venne arruolato e inviato in Germania per eseguire un lavoro d'ufficio. Congedato con onore nel 1970 tornò nella Carolina del Nord e si iscriffe al Gifford College di Greensboro. Liet era noto per il suo intelletto e la sua franchezza e il senso dell'umorismo inoltre era risaputo avesse un rapporto molto stretto con i suoi genitori infatti non aveva avuto problemi a presentarli a tutti i suoi amici maschi e femmine. Si innamorò dei computer durante la sua permanenza a Gifford e dopo la laurea trovò lavoro presso Integon una compagna di assicurazioni a Winston-Salem. Mentre lavorava per Integon incontrò una donna che come lui era attrata dai computer Bonnie Bates Pritchard che aveva due anni più di Liet e due bambini piccoli si era recentemente separata dal marito. Originaria di Welcome nella Carolina del Nord situata nella contea di Davidson era cresciuta in una famiglia amorevole con tre sorelle e un fratello. I suoi genitori andavano in chiesa ogni domenica. Bonnie si era mostrata da subito una ragazza silenziosa e timida con la passione della lettura e degli animali. Era andata a lavorare alla Integon due anni dopo essersi diplomata al liceo e tre anni prima aveva sposato Steve Pritchard che aveva solo 17 anni al momento del loro matrimonio e frequentava l'ultimo anno di liceo. 15 mesi dopo il matrimonio nacque il primo figlio Christopher e meno di due anni dopo la figlia Angela. Leith e Bonnie iniziarono a vedersi fuori dal lavoro nell'ottobre del 1976. Il loro primo appuntamento ebbe luogo a casa di Bonnie. Cenarono insieme e guardarono la tv dopo aver rimboccato le coperte a Chris e Angela. Due settimane dopo questo appuntamento Leith si trasferì a Cincinnati dove aveva accettato un lavoro presso i Federated Department Store. Aveva visto Bonnie per i due weekend precedenti al trasferimento e sebbene si aspettasse che le cose andassero a rotoli con lui fuori città continuò a chiamarla e a scriverle. Ogni volta che Leith tornava a casa per salutare la famiglia vedeva anche Bonnie. Circa sei mesi dopo essersi trasferito presentò Bonnie e i suoi figli ai suoi genitori. Le cose si erano fatte decisamente serie. Poiché Chris e Angela avevano avuto pochi o nessun contatto con Steve Pritchard dopo il divorzio Leith prese il suo posto andando alle recite scolastiche dei bambini portandoli fuori a mangiare e persino viaggiando insieme alla sua famiglia per una vacanza al mare. Dopo una visita a welcome a casa dei genitori di Bonnie Leith fece in modo che una lavatrice e un condizionatore venissero consegnati a casa loro e motivò il gesto dicendo che si sarebbe sentito decisamente bene sapendo che i genitori della sua compagna si sarebbero sentiti a proprio agio durante l'estate della Carolina del Nord. Inoltre la madre di Bonnie avrebbe potuto avere più tempo per se stessa se avesse avuto una lavatrice per il bucato. All'inizio di agosto del 1979 Leith accettò un nuovo lavoro in una società finanziaria a South Bend nell'Indiana e chiese a Bonnie di andare con lui come sua moglie. Bonnie accettò quindi i due si sposarono il 17 agosto. Bonnie lasciò il lavoro dopo 15 anni lei e i suoi figli si trasferirono con Leith in un soborgo di South Bend. Gli affari durante gli inverni però non andavano molto bene e Leith era preoccupato per i suoi genitori che chiaramente stavano invecchiando. Così nel 1981 accettò la posizione di capo dell'audit interno presso la National Spinning Company di Washington nella Carolina del Nord. Nel luglio dello stesso anno Leith, Bonnie e i due bambini si trasferirono nella suddivisione di Smallwood dove acquistarono la casa di legno a due piani al 110 di Lawson Road. Sebbene Leith fosse felice di essere tornato nella Carolina del Nord non si era mai avvicinato nella suddivisione di Smallwood perché desiderava stare in una città più grande come Winston-Salem ad esempio. Nel 1983 Bonnie iniziò a insegnare elaborazione dati in un college della comunità locale. L'anno successivo accettò un lavoro come analista programmatore presso la fabbrica di elettrodomestici Hamilton Beach a solo una manciata di miglia dalla casa di Lawson Road. Nel 1987 il padre di Leith morì improvvisamente di un aneurisma aortico lasciando una proprietà del valore di oltre 1,2 milioni di dollari. La madre di Leith aveva già problemi di salute e profondamente addolorata per l'improvvisa scomparsa del marito lo seguì nella morte solo quattro mesi dopo. La perdita di entrambi i suoi genitori in così poco tempo non solo arricchigli ma lo fece riflettere seriamente sulla propria vita. Non gli era mai piaciuto molto il suo lavoro e nell'ultimo fine settimana della sua vita parlando con Bonnie aveva espresso il desiderio di smettere entro la fine dell'anno e forse viaggiare oppure avviare un'attività in proprio. Oltre all'eredità di 1,2 milioni di dollari Leith aveva anche circa un milione di dollari in assicurazioni sulla vita. Bonnie è da sempre la sua beneficiaria eppure viene subito esclusa come possibile sospettata sia a causa delle ferite riportate. Dopotutto era in pericolo di vita ma anche perché parlando con i loro vicini gli investigatori non scoprono niente di che erano brave persone anche se non molto socievoli. Ma non è un crimine non essere socievoli no? Gli investigatori parlano con Chris Pritchard quel lunedì sera intorno alle 22 e 30. Lui e Angela sono a casa di un amico. Sebbene abbia 19 anni in apparenza sembra più vicino ai 16. È magro, indossa un berretto da baseball e fuma nervosamente una sigaretta dietro l'altra. Dice agli investigatori che era tornato a casa quel fine settimana trascorrendo il venerdì sera nella casa di famiglia in Lawson Road. Aveva una tesina che doveva per forza consegnare quel lunedì e quindi era tornato a scuola sabato sera dopo la cena. Domenica o sera, ossia la sera dell'omicidio del suo patrigno Leith e del tentato omicidio di sua madre era uscito con gli amici e poi era tornato nei dormitori dove era rimasto sveglio fino alle tre e mezza circa a bere e a giocare a carte. Era entrato nella sua stanza del dormitorio e si era infilato nel suo letto solo da pochissimo tempo quando Angela lo aveva chiamato avvisandolo di ciò che era successo a casa. Gli ufficiali di pubblica sicurezza della scuola lo avevano riportato a Washington perché era sconvolto e non riusciva a trovare le chiavi della sua macchina. Per quanto ne sappia Chris i suoi genitori non avevano mai avuto problemi, non avevano nemici o almeno lui non conosceva nessuno che avrebbe voluto far loro del male. Quando gli viene chiesto se lui e Leith vadano d'accordo Chris assicura agli investigatori che andavano d'accordo e si volevano bene. Questa affermazione però viene contraddetta da altri membri della famiglia e da amici i quali riferiscono che Leith e Chris spesso litigavano, non andavano d'accordo e non c'era affatto un bel rapporto tra loro. Chris afferma di sapere che Leith aveva ereditato un sacco di soldi ma in realtà non ne conosceva i dettagli. Anche questa affermazione viene contraddetta da Bonnie che assicura agli investigatori che lei stessa aveva detto a Chris non solo quanto Leith avesse ereditato ma quanto valesse la sua assicurazione sulla vita. C'è solo una certezza, gli investigatori non si fidano di Chris Pritchard. Un agricoltore della contea di Pitt di nome Nora Ely intorno alle 4 e mezza del mattino di lunedì aveva appena terminato di portare dei maiali nella sua fattoria che si trova a circa un miglio oltre la linea della contea di Buford e a 7 miglia dalla suddivisione di Smallwood a Washington. Stava tornando a casa quando notò un fuoco che bruciava nell'oscurità appena prima dell'alba. Si era incuriosito tanto da avvicinarsi con il suo camion per constatare che il fuoco era alto circa 4 piedi. Bruciava così intensamente che Leith capì che era alimentato da qualcosa ma non scese dal camion forse perché avvertiva qualcosa di inquietante. Fatto sta scoprendo l'omicidio di Leith quell'avvenimento gli torna in mente quindi chiama le autorità. Leith si rivela essere un eccellente testimone ricorda l'ora esatta in cui notò per la prima volta l'incendio e soprattutto dove stava bruciando. Morte di sera infatti porta gli investigatori nel posto in cui aveva avvistato il fuoco e poi su Grimsland Bridge Road fuori dalla State Route 264 dove stava bruciando. Il fuoco naturalmente si è ormai estinto lasciando un cerchio annerito e detriti carbonizzati. In quei detriti c'è quella che sembra essere una presa per una chiave inglese, resti bruciati di blue jeans, resti fusi di un maglione, la suola di una scarpa da ginnastica Reebok e un grosso coltello da caccia con il manico fuso e la lama da 6 pollici annerita. Vengono trovati anche alcuni fogli di carta uno dei quali parzialmente bruciato che era stato spazzato via dal fuoco. Mercoledì mattina gli investigatori tornano per fotografare l'aria alla luce del giorno e per fare una ricerca più approfondita. Il coltello risulta compatibile con le ferite subite da Leith von Stein. Quando esaminano i fogli di carta bruciacchiati si rendono conto che su uno di esse è disegnata una mappa in modo grossolano con una penna sfera. Sulla mappa è annotata una parola Lawson. I blocchi disegnati ovviamente rappresentano delle case e su quello con una X c'è scritto 110. 110 Lawson Road, l'indirizzo della casa dei von Stein. Il servizio funebre di Leith von Stein si tiene giovedì 28 luglio. Quella che scena dal cielo è una piaggerellina grigia che si trasforma in un violento temporale quando inizia la funzione. Non c'è il corpo dell'uomo nella bara, viene cremato e le ceneri sepolte a Winston-Salem. La cappella è gremita di colleghi di Leith, di vicini, inoltre tutta la famiglia di Bonnie è presente. Bonnie vestita con un abito da camera nero è stata portata dall'ospedale in auto inviata dall'impresa di pompe funebri. Dopo il servizio torna in ospedale dove rimane per altri 4 giorni. Data la tempistica stimata degli attacchi di Leith e Bonnie, quando gli investigatori osservano l'incendio e il luogo dell'incendio sono convinti che il colpevole e i colpevoli dopo aver colpito si siano diretti a Ovest sulla 264 fermandosi a Grinsland Bridge Road per cercare una buona area col fine di far sparire le prove. Dopo aver acceso il fuoco se avessero proseguito verso Ovest sulla 264 sarebbero finiti a Rilley e alla North Carolina State University dove Chris Pritchard studiava. Il fulcro dell'indagine si allarga per includere Rilley e la North Carolina State University. Prima di parlare di Chris con qualcuno al di fuori della famiglia Pritchard, tuttavia gli investigatori chiedono al ragazzo di disegnare una mappa del quartiere in cui vivevano Yvonne Stein. Lo fa con una penna sfera arrivando persino a dare il nome delle vie alle strade. Quella seconda mappa sarebbe stata confrontata con la prima, con l'opinione professionale ed esperta di un analista della grafia. La parola lowzone che Chris scrive due volte sulla seconda mappa è identica a quella sulla prima mappa. Parlando con degli ex compagni di Chris e con una ragazza con cui era uscito, gli investigatori apprendono che aveva iniziato a usare la sostanzina da fumare e la polverina bianca dopo il diploma di scuola superiore. A Chris piace pensare e dire agli altri che è bravo con le donne, eppure l'ultima ragazza con cui era uscito aveva rotto con lui nel giro di poche settimane. A quanto pare Chris non riusciva a tenere le mani al suo posto, anche quando quella ragazza gli diceva a chiare lettere che no, non voleva essere toccata. Quella ragazza non ha più contatti con lui da quel momento ma aggiunge che nel periodo in cui si sono frequentati Chris parlava incessantemente di un gioco chiamato Dungeon and Dragons, anche detto D&D. Il compagno a distanza di Chris spiega ai detective che durante il suo primo anno lui e Chris non erano mai usciti insieme perché le loro abitudini erano molto diverse. Chris non aveva mai studiato seriamente al punto da superare a malappena nel suo primo anno, era ossessionato da un gioco, da quel gioco da tavolo Dungeon and Dragons. Il suo coinquilino conosceva quel gioco dato che Chris leggeva i libri nella loro stanza ma non aveva mai avuto interesse a giocarci. I detective scoprono che Chris aveva iniziato anche a prendere nel mezzo della sessione estiva un'altra sostanza psichedelica. Alcol e sostanze lo avevano spinto a sperperare moltissimi soldi eppure il ragazzo diceva ai suoi amici che i suoi genitori erano ricchi, gli avevano comprato una Mustang, un bel computer e gli mandavano una paghetta settimanale. Andava così male a scuola principalmente perché beveva e assumeva sostanze ma anche perché passava tutto il suo tempo a giocare a D&D. Gli investigatori quindi individuano le due studentesse che erano uscite con Chris e un altro amico la notte di domenica 24 luglio. Erano andati a mangiare poi erano tornati ai dormitori dove ricordavano che Chris aveva parcheggiato la sua auto nel parcheggio esterno più lontano dai dormitori. Ricordavano bene la serata perché la loro partita a D&D non era iniziata prima delle dieci o più tardi nella loro stanza del dormitorio e verso l'una o l'una e mezza del mattino una delle ragazze aveva iniziato a chiedere a Chris di andarsene. Chris aveva ignorato le sue richieste fino alle tre e mezza quando dopo aver appreso l'ora se ne andò subito. Una delle ragazze racconta che Chris aveva detto che aveva uno schema nel suo computer su come guadagnare un sacco di soldi ma quando lei gli aveva chiesto di vederlo aveva rifiutato dicendo che era un segreto. Aggiunge che Chris era risentito con Leith arrabbiato per il fatto che il suo patrigno avesse speso dei soldi per Bonnie ma non per lui e Angela. Chris aveva detto chiaramente che lui e Angela avrebbero dovuto avere macchine migliori e vestiti migliori. Altre persone che conoscono Chris un po' più superficialmente tuttavia affermano sempre la stessa storia. Chris era risentito con Leith il suo patrigno non gli piaceva mentre altri dicono che Chris del suo patrigno non ha neanche mai parlato. Non sorprende che Chris non sia un bravo studente in quanto è conosciuto nel campus per il suo consumo di alcol e sostanze la sua totale ossessione per il gioco da tavolo. Nonostante quell'anno difficile è stato comunque accettato alla North Carolina State University come studente di ingegneria nucleare. Forse per coincidenza forse no quella è la stessa scuola che Leith von Stein aveva frequentato e in cui era stato bocciato vent'anni prima. I detective parlando con i colleghi di Leith apprendono che il giovedì o il venerdì prima della sua morte era arrabbiato con Chris per il suo rendimento scolastico arrivando al punto di dire che se i suoi volti non sarebbero migliorati quel senestre avrebbe interrotto gli studi non avrebbe più pagato nulla inoltre l'avrebbe diseredato. Gli investigatori pensano a questo punto di avere individuato un buon movente per l'omicidio di Leith e il tentato omicidio di Bonnie un'eredità che Chris avrebbe ricevuto indubbiamente se fossero morti entrambi. Ciò che Chris non sapeva era che se Bonnie fosse morta il suo testamento e quello di Leith stabilivano che né Chris né Angela avrebbero potuto ricevere i soldi fino al raggiungimento dei 35 anni. Ma ora parliamo un attimino del gioco da tavolo che tanto ossessionava Chris Dungeon and Dragons. Appare per la prima volta sul mercato nel 1974 è un precursore dei videogiochi immersivi che avrebbero invaso il mercato decenni dopo. È un gioco di ruolo fantasy e consente ai giocatori di creare il proprio personaggio e assumere quel ruolo. Giocando con un partecipante che assume il ruolo di Dungeon Master che è l'arbitro e il narratore del gioco formano gruppi che esplorano, raccolgono tesori, informazioni e combattono. Il gioco consente al Dungeon Master di creare le proprie trame e avventure uniche. A Chris e ai suoi amici piaceva giocare sotto l'effetto di alcol e sostanze prima di interpretare i copioni che gli erano stati dati dal Dungeon Master che spesso continuava per tutta la notte. I due amici che Chris aveva e che sembravano dediti al gioco come lui sono uno studente di nome Bart Upchurch e un ex studente di nome Neil Henderson. James Bartlett detto Bart Upchurch proviene dalla contea orientale di Caswell e come Bonnie era cresciuto in una fattoria. I suoi genitori rimasero sposati per anni ma ci furono dei momenti di crisi e in quei momenti loro padre se ne andava di casa. Alle elementari e alle superiori era un bravo studente con voti nella media ma tendeva ad annoiarsi facilmente. Era un avido lettore, adorava particolarmente la fantascienza e il fantasy. Fu durante la lettura di uno dei suoi libri che venne a conoscenza per la prima volta di D&D, ossia di Dungeon & Dragons. Acquistò il gioco da tavolo e presto trovò degli amici disposti a giocare con lui dopo la scuola e persino al telefono. In terza media Bart portò con sé il gioco a scuola, avrebbe giocato con i suoi amici in mensa durante la pausa pranzo. Quel gioco divenne così popolare che presto altri studenti crearono i propri gruppi per giocare. Gli insegnanti erano consapevoli che gli studenti erano coinvolti nel gioco e D&D era visto come un sbocco positivo per i bambini per stimolare la loro creatività e immaginazione. Il gioco infatti richiede un'intensa concentrazione e un impegno non indifferente. Per Bart, chi amava raccontare storie e amava essere al comando, quel gioco rispondeva a un bisogno innato che aveva. Amava essere il Dungeon Master. Sebbene Bart a scuola fosse visto come solitario e strano, i suoi insegnanti lo ricordano come un ragazzo sempre molto obbediente e rispettoso nei loro confronti, anche se era privo di obiettivi nella vita, almeno fino a quel momento. Quando Bart iniziò il suo ultimo anno di liceo nell'autunno del 1985 uscirono nuove versioni del gioco, si era lentamente modificato con nuove espansioni e nuove regole. I personaggi non davano più la caccia ai mostri, ma ora si affrontavano l'uno contro l'altro per impossessarsi del tesoro l'uno dell'altro e cospirare per distruggere gli altri personaggi. Fu a questo punto che Neil Henderson si unì alla cerchia di Bart e al gruppo di D&D. Neil Henderson aveva i genitori separati, a differenza di Bart che comunicava facilmente i suoi sentimenti, Neil trovò la separazione dal suo adorato padre straziante. Aveva un cui eccezionalmente alto, sia 180 ed era considerato un ragazzo molto dotato. Era così avanti rispetto ai suoi compagni di classe che ottenne punteggi perfetti a tutti i test che sosteneva, per questo motivo anche lui come Bart si annoiava facilmente a scuola. Così rivolse la sua attenzione ai libri, libri di tutti i generi e successivamente creò dei fumetti da zero. In quinta elementari Neil frequentava le classi di terza media al mattino per poi tornare alle elementari nel pomeriggio. Sebbene avrebbe potuto gestire un'intera giornata di un programma di scuola media, la madre di Neil era preoccupata per il suo sviluppo sociale, se avesse trascorso tutto il giorno con dei compagni di classe più grandi. A 12 anni Neil andò al liceo e passò il SAT per la prima volta, superando gli accademici di talento nella classe superiore. L'SAT è un test attitudinale molto diffuso, generalmente richiesto e quasi universalmente riconosciuto per l'ammissione ai college degli Stati Uniti. A 13 anni sentì parlare per la prima volta di Dungeons & Dragons e lesse tutto ciò che riuscì a trovare sull'argomento. Quando aveva 14 anni, Neil fu accettato alla prestigiosa North Carolina School of Science and Mathematics a Durham, dove si unì ad altri studenti che erano considerati i migliori dello Stato. Poco dopo il suo arrivo a scuola venne coinvolto in diversi gruppi impegnati in giochi di ruolo che includevano D&D. Inoltre per la prima volta nella sua vita fece amicizie e si mise insieme alla sua prima ragazza. Fu però posto in libertà vigilata accademica, che è il termine più comune che i college e le università usano per indicare che uno studente non sta facendo i progressi accademici richiesti dall'istituto per la laurea. Sebbene Neil fosse riuscito a passare con B e C, non fu invitato a tornare alla scuola l'anno successivo. Si sentiva male per aver deluso sua madre, eppure in seguito disse che la scuola non faceva per lui, poiché non aveva l'autodisciplina necessaria per stare lì. Iniziò il suo ultimo anno di liceo a casa, dove suonò la tubo in una band, lavorò all'annuario del liceo, contribuì a raccogliere fondi per acquistare un computer per la Junior Engineering and Technical Society. Inoltre organizzava gruppi per fare giochi di ruolo. Come aveva fatto l'anno precedente, Neil passò più tempo a giocare che a fare i compiti, e così fu obbligato a ripetere l'ultimo anno. Aveva anche trovato una ragazza, si chiamava Kenietta Upchurch, era la cugina di primo grado di Bart, ma incontrò Neil tramite il fratello minore di Bart. La loro relazione fu tormentata, condita da Neil che la tradiva con altre ragazze durante il suo secondo anno da Senior. Neil sentiva che questi tradimenti non avevano alcun peso, poiché non le amava e stava solo soddisfacendo un bisogno intimo, fisico. Trovava le ragazze facili da usare. Quando gli venne detto che non avrebbe dovuto usare le persone, la sua unica risposta fu che le persone erano così facili da manipolare. James Bartlett ebbe il suo primo scontro con la legge nel febbraio del 1986, quando lui e tre amici furono arrestati e accusati di aver fatto irruzione in una scuola superiore dove rubarono un computer. Inoltre avevano fatto irruzione in una casa sul lago dove rubarono casse di birra, vino, un televisore, due orologi e un binocolo. Bart ammise di essere il colpevole ai suoi genitori che erano arrabbiati e imbarazzati a dir poco. In seguito dissero che Bart era preoccupato per il suo possibile arresto e la possibile condanna, ma non aveva rimorsi per quello che aveva fatto. A marzo venne lavorato un patteggiamento in cui le due accuse sarebbero state consolidate e ridotte a reati minori in cambio della dichiarazione di colpevolezza di Bart e del completamento di 150 ore di servizio alla comunità nei sei mesi successivi. Nei due anni successivi venne arrestato altre due volte con l'accusa di furto per aver rubato un refrigeratore di birra e per guida senza patente e guida imprudente e sconsiderata. Provò la robina da fumare per la prima volta dopo il diploma presumibilmente perché pensava fosse qualcosa che avrebbe dovuto fare prima di iniziare il college. Inizialmente aveva un interesse per l'esercito, voleva candidarsi all'accademia navale degli Stati Uniti ma si rese conto che le sue possibilità di accettazione erano davvero scarse. Un incontro casuale con un reclutatore dell'esercito lo portò a decidere che un arruolamento di tre anni in cui avrebbe risparmiato i suoi soldi e guadagnato crediti universitari era perfetto per lui fino a quando non fu arrestato. Il suo addetto alla libertà vigilata si rifiutò di concedergli il permesso di arruolarsi dicendo che doveva completare almeno metà semestre al college prima di poter uscire dalla libertà vigilata. Barth fece domanda per tre o quattro college nell'autunno del suo ultimo anno anche se non aveva assolutamente idea di cosa volesse fare della sua vita. Anche Neil era stato accettato alla North Carolina State University con una borsa di studio completa. Sebbene non fosse un amico particolarmente intimo di Barth, Neil era amico del fratello minore di Barth e suggerì che lui e Barth avrebbero potuto andare insieme al college. Barth era un ragazzo ordinato, puliva la camera ma Neil invece era disorganizzato e disordinato. Barth era solito partecipare alle feste la sera mentre Neil non riusciva a stare in gruppi composti da più di tre persone. Insomma i due ragazzi erano profondamente diversi. Rimasero tuttavia coinquilini per il primo anno e decisero anche di prendere un appartamento fuori dal campus durante quell'estate del 1987 ma si separarono entro l'autunno del secondo anno. Barth fu presto bocciato e venne informato che non sarebbe stato invitato a tornare. Anche Neil aveva mostrato parecchie difficoltà finendo in libertà vigilata accademica e con la sua borsa di studio in pericolo. Invece di studiare durante il semestre estivo guardarono MTV, fumarono parecchio e rubarono in diversi negozi. Entro la fine del suo secondo anno anche Neil fu bocciato e la sua borsa di studio fu revocata dunque si trovò costretto a trasferirsi fuori dal campus. Barth tornò a scuola per la sessione estiva per appendere dei poster alla ricerca di nuovi giocatori di D&D nel campus. Neil stava lavorando in un negozio al dettaglio locale ma programmò le sue ore lavorative in base al tempo di gioco previsto. Anche Chris perse la sessione estiva, ahimè. Ci sarebbero voluti molti mesi ma alla fine sarebbe stato Neil a cedere per confessare tutto agli investigatori. A differenza di Barth che era stato calmo, alternativamente cordiale e riverente quando interrogato, Neil si mostra vulnerabile e nervoso. Per questo gli investigatori intuiscono la loro colpevolezza. Gli dicono dunque di raccontare ogni cosa perché consapevoli che Chris sia coinvolto. Neil dunque crolla e la storia che racconta è a dir poco agghiacciante. Spiega che entro una settimana circa dall'incontro con Chris le discussioni vertevano sui suoi piani futuri e Chris aveva detto che sarebbe stata solo questione di tempo, sarebbe diventato ricco. La sua famiglia secondo Chris aveva milioni di dollari comprese più case e automobili. Qualcuno, Neil non riusciva a ricordare chi, aveva suggerito a Chris di andare spesso in visita dai suoi genitori proprio per i soldi. Una volta che sarebbero passati a miglior vita se Chris avesse ereditato tutti quei soldi, avrebbe potuto comprare una casa nel bosco, sarebbero andati tutti a vivere lì dove avrebbero potuto trascorrere le loro intere giornate facendo uso di sostanze, bevendo e giocando ad Dungeon and Dragons. Neil presumeva fossero solo stupidaggini fino a luglio del 1988 quando Chris e Bart lo informarono di avere scogitato un piano per fare ereditare a Chris i soldi al più presto possibile, uccidendo i suoi genitori. Il loro primo piano prevedeva che Chris sedasse la sua famiglia con dei sonniferi per poi dare fuoco alla casa. Quel piano però venne scartato dopo che Chris decise che sarebbe stato meglio se non fosse stato in casa, pensava che un'invasione domestica sarebbe stata una scelta migliore. Angela non fu più di tanto messa al corrente, Chris disse che a un certo punto era d'accordo a dividere l'eredità con lei, un importo sostengono Bart e Neil di circa 10 milioni di dollari. Secondo Neil, Bart si fece avanti proponendosi per uccidere i genitori di Chris. Il compito di Neil era quello di guidare l'auto di Chris fino a Washington dal momento che la patente di Bart era stata revocata. Neil credeva che Chris gli avrebbe dato o 2.000 dollari o 20.000 per aver portato Bart sulla scena del crimine e per poi averlo portato via. Chris disegnò loro una mappa del quartiere mostrando non solo la casa dei Von Stein ma anche le case vicine con dei cani che avrebbero potuto abbaiare e quindi fare rumore. Il giorno prima dell'omicidio Neil disse che Chris gli aveva riferito che i suoi genitori stavano per diseredarlo a causa del suo scarso rendimento scolastico e della mancanza di ambizione e se lo avessero diseredato avrebbe dovuto lasciare la scuola e probabilmente trovare un lavoro per mantenersi. Neil non sapeva che il piano per l'omicidio stava per essere compiuto fino a domenica 24 luglio 1988 quando Bart si presentò con le chiavi della macchina di Chris e gli disse di incontrarsi nel parcheggio dietro i dormitori quella notte intorno a mezzanotte. Neil disse che Bart aveva applicato del lucido da scarpe nero su un paio di guanti bianchi così come sulla mazza che avrebbe usato per colpire entrambi i genitori di Chris. Per ogni evenienza però Chris aveva acquistato un coltello da caccia come riserva. Secondo Neil Bart era iperattivo per l'imminente missione dell'omicidio. Neil afferma che anche mentre guidava Bart verso Washington aveva l'impressione che avrebbero solo commesso un furto con scasso avrebbero rubato dei gioielli che Chris diceva fossero in casa insomma. Bart si vestì completamente di nero si spalmò il lucido da scarpe nero sulla faccia e si mise un passamontagna scuro. Neil insiste dicendo che non aveva idea che quelle persone si sarebbero fatte male. Neil spiega agli investigatori che aspettò in macchina mentre Bart si avvicinava all'entrata con una chiave che Chris gli aveva fornito. Qui ci ritorneremo più tardi. Non ricorda però quanto tempo Bart fosse stato via ma quando tornò disse a Neil che l'aveva fatto e che non aveva mai visto così tanto sangue in vita sua. Neil in un primo momento dice che aveva visto del sangue sulle mani di Bart poi però in seguito ritratta questa affermazione. Fu Bart a indicare a Neil dove andare per far sparire i vestiti, le armi e la mappa e fu Bart a dare fuoco agli oggetti. Neil riportò i due armi lì e lasciò l'auto di Chris nello stesso parcheggio. Mise le chiavi di Chris su uno scaffale alto in un bagno in comune. Aveva passato gli ultimi 12 mesi cercando di dimenticare quella notte e da allora afferma ai detective di essere in uno stato di depressione, di non riuscire a dormire, a darsi pace. Aveva sentito per tutto quel tempo la necessità di liberarsi dal senso di colpa raccontando tutto ma affermò di non essersi fatto avanti per paura di Bart e Chris. Giovedì 15 luglio 1989 Bart Upchurch venne arrestato per l'omicidio di Liet von Stein e l'attacco a Bonnie von Stein. Si rifiutò di dire però qualsiasi cosa e chiede immediatamente un avvocato. Venerdì 16 giugno gli investigatori si presentarono a casa di Bonnie a Winston-Salem con un mandato d'arresto per Chris. Chris chiama il suo avvocato prima di tornare a casa dove viene prontamente preso in custodia. La mattina di martedì 20 giugno Neil Henderson viene arrestato a Rilly. Venerdì 21 luglio Neil viene rilasciato con una cauzione di 200 mila dollari e si trasferisce con sua madre a Danville in Virginia. Lavorava da un Wendy's a Rilly e quando venne arrestato stava per ricevere una promozione. Gli permettono dunque di lavorare da Wendy's a Danville mentre è fuori sua cauzione. La cauzione di Chris è invece stata fissata a 300 mila dollari. Tre giorni dopo anche Bart scopre a quanto ammonta la sua cauzione, mezzo milione di dollari. La sua famiglia non ha abbastanza soldi per pagare la cauzione quindi viene riportato in prigione in attesa del processo. A dicembre viene elaborato un patteggiamento con Neil e i suoi avvocati. In cambio della dichiarazione di colpevolezza per le accuse di favoreggiamento per omicidio di secondo grado e favoreggiamento per aggressione con un'arma mortale e intenzione di uccidere, tutte le altre accuse sarebbero state ritirate e Neil avrebbe testimoniato contro Bart e Chris. La seconda donna sarebbe stata a discrezione del giudice. Il 5 dicembre il patteggiamento viene accettato dal giudice con la condanna da verificare dopo i processi di Bart e Chris. Neil nel frattempo può tornare a Danville con la sua famiglia. I processi sarebbero dovuti iniziare il 2 gennaio 1990 ma il 27 dicembre del 1989 Chris si dichiara colpevole e accetta di testimoniare contro Bart dopo aver trascorso 9 ore a raccontare la sua versione. Sebbene siano presenti alcune incongruenze il racconto di Chris conferma quello di Neil. Bart è l'assassino. Nonostante questo sviluppo Bart si rifiuta di ammettere la sua colpevolezza e tenta di chiedere un patteggiamento allo Stato che però non accoglie. Il ragazzo quindi finisce a processo. Il processo di Bart inizia lunedì 8 gennaio 1990 a Elizabeth City presso il tribunale della contea di Pasquotank. La sua giuria è formata da 8 donne, 4 uomini e due supplenti, un uomo e una donna. Tutti loro dicono chiaramente che avrebbero potuto condannare a morte Bart se lo avessero ritenuto colpevole. A partire dalla fine di quel primo giorno fino a martedì 9 gennaio Bonnie von Stein testimonia raccontando gli orribili eventi di quella notte di luglio quando è stata aggredita e suo marito è stato ucciso. Due giorni dopo giovedì 11 gennaio Chris considerato il testimone principale dell'accusa va alla sbarra. Spiega la sua relazione con suo patrigno, i suoi problemi con le sostanze, i suoi voti vacillanti al college e la sua ossessione per Dungeon and Dragons. Successivamente racconta come hanno pianificato l'omicidio. È la prima volta che il grande pubblico lo sente. È anche la prima volta che Angela seduta accanto a Bonnie in aula sente suo fratello dire che se si fosse svegliata quella notte nel luglio del 1988 anche lei avrebbe dovuto essere uccisa. In questo modo Chris sarebbe stato l'unico beneficiario del patrimonio dei loro genitori. Chris ammette di aver comprato il coltello usato per pugnalare Liet a un Kmart solo pochi giorni prima dell'omicidio. Rispondendo alle domande del suo stesso avvocato Chris sostiene che dopo aver appreso che sua madre era sopravvissuta all'aggressione si era sentito felice. Afferma inoltre di avere un fortissimo rimorso per l'attacco e l'omicidio. Si dice disgustato eppure ammette che l'idea iniziale di uccidere i suoi genitori è venuta da lui. Martedì 15 gennaio Neil Henderson testimonia raccontando il suo passato con una voce monotona e così bassa che il giudice deve ricordargli di parlare più chiaramente. Racconta di aver incontrato Bart al liceo, di essere andato con lui alla North Carolina State University, di aver giocato a Dungeon and Dragons. Poi ha incontrato Chris e ha iniziato anche lui a usare sostanze. Parla anche del piano attuato per uccidere Liet e Bonnie spiegando che Bart aveva portato con sé uno zaino verde militare come quello trovato sulla scena del crimine e una ammazza da baseball. Mercoledì continua ad essere sul banco dei testimoni. Racconta la notte dell'omicidio e afferma che né Bonnie né Angela né nessun altro avevano cospirato per uccidere Liet von Stein, solo Chris, Bart e Neil stesso. A Neil viene chiesto perché fosse stato coinvolto nel complotto per uccidere Yvon Stein e lui risponde che aveva una scarsa autostima ed era disposto a tutto per fare amicizia. Va bene tutto ma non gli omicidi e dai Neil. Gli avvocati di Bart chiamano Jim Upchurch, suo padre, al banco dei testimoni, poi il suo prozio e infine un amico di Bart del liceo. Durante la chiusura del processo gli avvocati di Bart sottolineano che non c'è una prova fisica che colleghi il loro cliente al crimine ma sia Neil Henderson che Chris Pritchard avevano ammesso la loro colpevolezza. Secondo gli avvocati di Bart il freddo insensibile assetato di sangue Chris aveva assunto Neil per uccidere i suoi genitori. Il medico legale aveva testimoniato che l'oggetto usato per picchiare Liet e Bonnie era stato usato da un destrorso. Bart che viene visto scrivere al tavolo della difesa è chiaramente mancino ma Neil è destrorso. Concludono ricordando alla giuria che nonostante la testimonianza nessuno sapeva esattamente cosa fosse successo e chi quella notte a casa von Stein avesse materialmente portato a termine l'omicidio. Il caso ora è in mano alla giuria e la mattina di martedì 23 gennaio le loro deliberazioni continuano durante il pranzo e nel pomeriggio fino alle 17 quando il giudice li chiama alla fine della giornata. Le deliberazioni ripartono mercoledì mattina continuando per tutto il pranzo fino a quando la giuria non raggiunge un verdetto alle 16 e 05. Nessuno di loro guarda Bart mentre viene letto il verdetto di colpevolezza. Bart che martedì mattina si aspettava che la giuria tornasse entro pochi minuti con una soluzione impallidisce visibilmente e si porta una mano alla bocca. Bart è colpevole ma il lavoro dei giurati non è ancora finito perché secondo la legge della Carolina del nord devono decidere la condanna per Bart, l'ergastolo o la morte nella camera gas. L'udienza di condanna inizia venerdì 26 gennaio. Come previsto la famiglia di Bart prende posizione per implorare che gli fosse risparmiata la vita. Poco dopo le 15 e 30 dei lunedì 29 gennaio la giuria inizia le deliberazioni sulla condanna. Vengono rimandati a casa alle 17 per poi raccogliere la deliberazione martedì mattina. Quando tornano più tardi quel giorno con un verdetto due delle giurate stanno piangendo e ancora una volta nessuno guarda Bart. Lo condannano alla pena di morte. Neil Henderson viene condannato a 40 anni per favoreggiamento in omicidio di secondo grado e 6 anni per favoreggiamento in aggressione con un'arma mortale con condanni da conseguire contemporaneamente e viene inviato all'istituto di correzione della contea di Harnett a Sud di Raleigh. Gli viene data una raccomandazione per un rilascio per studio il che significa che Neil sarebbe potuto uscire di prigione in meno di 5 anni. Alla fine resterà in prigione per circa 10 anni e verrà poi rilasciato dall'Orange Correctional Center di Haysburg l'11 dicembre 2000 ed ora risiede nella Carolina del Nord dove gestisce un ristorante. Durante la sua intera incarcerazione Neil non commette una singola infrazione. Dopo la condanna a morte Bart presenta ricorso nell'ottobre del 1992. La Corte Suprema della Carolina del Nord ritiene che fossero stati commessi errori nel processo di condanna e annulla la sua condanna a morte rinviando il suo caso per un nuovo procedimento. Alla nuova udienza viene condannato all'ergastolo dopo aver scontato una pena presso l'Alexander Correctional Institute e Light Correctional Center. Bart viene mandato al Davidson Correctional Center vicino a Lexington dove risiede tutt'oggi. A differenza di Neil Henderson Bart commette sette infrazioni dal 1995 dal furto alla disobbedienza agli ordini. La sua ultima infrazione nel settembre 2021 è per possesso di sostanza. Avrà diritto la libertà condizionale nel 2022 quindi quest'anno magari l'ha già ottenuta. Il giudice Thomas Watts che aveva presieduto il processo di Bart e che aveva condannato Neil Henderson condanna anche Chris Pritchard ovviamente. Prima di emettere la sentenza Chris parla per proprio conto dicendo che mentre aveva perdonato Neil e Bart per le loro parti nel crimine non era ancora riuscito a perdonare se stesso. Il giudice Watts credeva all'avversione che Chris fosse pieno di rimorsi ma lo condanna alla pena massima. Ergastolo più vent'anni per aver aiutato e favorito l'aggressione a sua madre Bonnie. Gli viene permesso di entrare in una stanza laterale con Bonnie e il suo avvocato per un ultimo breve addio. Chris viene mandato prima in una prigione a Goldsboro a sud est di Rilly dove partecipa ad un programma di riabilitazione dalle sostanze e dall'alcol. Prima di trasferirsi al Craigie Correctional Institute a nord di Asheville. Mentre è in prigione diventa un cristiano reinato. Bonnie rimane in contatto con lui mentre è in carcere andando a trovarlo molto spesso. Viene rilasciato dal Davidson Correctional Center vicino a Lexington il 13 maggio del 1997 si trasferisce con sua madre. Termina la sua libertà vigilata il 31 maggio 2012. Attualmente risiede a Winston-Salem con la moglie e lavora con i giovani problematici. Eppure restano ancora domande senza risposta per questo crimine. Durante l'autopsia di Liet il medico legale trova nel suo stomaco pollo e riso non digeriti. Bonnie dice da sempre che lei e Liet avevano cenato fuori quella sera e poi erano tornati a casa. Liet era andato a letto alle 21 circa. Riso e pollo sono facilmente digeribili. Allora come mai erano ancora presenti nello stomaco? È un fatto strano. Sicuramente lo stress estremo può rallentare il normale funzionamento digestivo del corpo. Ma questo fatto combinato con la normale mancanza di emozioni mostrata non solo da Chris e Angela ma dalla stessa Bonnie crea delle perplessità. Bonnie ha davvero detto la verità? Gli esperti credevano che Liet fosse stato colpito da uno strumento maneggiato da un destrorso. Bart era mancino. Se gli esperti avevano ragione Bart usò il suo braccio meno dominante per colpire Liet e Bonnie o qualcun altro era nella camera da letto di Von Stein con un'arma oltre a Bart. Chris testimonia di aver dato a Bart la chiave della porta sul retro dei Von Stein ma Bonnie aveva detto alle autorità che il portico era stato rifatto da poco e la porta sul retro aveva una nuova serratura. La chiave di Chris non avrebbe aperto quella porta infatti trovarono il vetro spaccato della finestra accanto all'entrata sul retro. Chris ha sempre sostenuto che Angela non sapeva nulla del suo piano per l'omicidio. Chris stava tornando a Rilay presumibilmente per scrivere una tesina e si era fermato a casa di un amico dove si trovava Angela così almeno viene raccontato. L'aveva presa da parte per una breve conversazione privata eppure Chris afferma di non ricordare di essersi fermato per vederla o di aver avuto una conversazione con lei. Nega inoltre che Angela avesse mai conosciuto Bart Upchurch contraddicendo la stessa Angela che aveva ammesso che lei e Bart si erano incontrati alcune volte quando si era recata alla North Carolina State University per visitare Chris. Una delle amiche di Angela ricorda di aver incontrato Bart già nel gennaio del 1988 ad un concerto dei Def Leppard, in particolare cinque mesi prima che Chris affermasse di aver incontrato Bart per la prima volta. Angela descrive la sua relazione con Bart come una relazione tra conoscenti ma gli amici di Bart avevano affermato che i due erano coinvolti in una relazione intima e che Bart si era innamorato di Angela. Durante la detenzione Neil Henderson ammette che Bart gli aveva detto finalmente ho incontrato una ragazza che mi piacerebbe sposare. Angela insiste da sempre sul fatto di aver dormito nonostante il patrigno e la madre fossero stati picchiati e accoltellati nella camera da letto accanto alla sua. Solo poche ore prima però Bonnie aveva bussato alla porta di Angela chiedendole di abbassare la radio perché la musica si sentiva attraverso i muri. Angela dorme durante l'omicidio ma a quanto pare continua a dormire anche mentre la polizia, i servizi di emergenza sanitaria e l'ambulanza si muovono tra la strada, il vialetto e in casa. Inoltre il bicchiere posato sul suo comodino conteneva del ghiaccio non ancora sciolto quando gli agenti entrarono a controllare la situazione. Cosa è quanto strana. La ragazza poi non risultò impaurita quando venne svegliata da un agente di polizia nelle prime ore del mattino e non corse nemmeno nella stanza di sua madre accanto alla sua dopo aver visto l'agente di polizia o aver sentito che era successo qualcosa. Alcuni investigatori si sono chiesti non solo come Angela avesse potuto dormire mentre gli ed urlava ma anche se avesse aperto la porta del piano di sotto per far entrare Bart. Il bicchiere d'acqua con i cubetti di ghiaccio non sciolti sul comodino della calura di una sera di luglio della Carolina del nord non tornano molto considerando che Angela sostiene di aver dormito più di quattro ore. Cubetti di ghiaccio a quel punto si sarebbero già sciolti. Detto questo io ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Vi aspettavate che il colpevole era il figlio? Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!